che ci mettiamo affanto oggi pasta ripetta e salsicce bravissimo iniziamo con allevare la pelle le salsicce ok cosa di più sporcheri di più le mani dai che ne è che succede qualcosa va a metterla ma lo lasciava, buttava zitto E' forpici. E' forpici. Non si taglia. Vale. Dai, affonda quei dita. Con tutte e due le mani e poi apri all'infuori. E' così apri. Vale. Perché si spostava la panela? Sposta l'idea, no? Ci stai lì in mezzo, ok? Non c'era tanto spazio. Poco spazio. Vai, vai. Un altro po', un altro po'. Vai, vai. Poi? Vabbè, vabbè, dai. Ok. Così ti tagli ai dadini. A dadini. Vabbè, a pezzettini. Che mani, con le mani. Mamma mia. Eh, vai. Cerca di fare a pezzettini più o meno grossi uguali. E' così. Ok. 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 Vabbè. Adesso forse esagerata. Ok. Ora aspetti che? Lo sfiggiamo. Lo sfiggiamo. Lo sfiggiamo. ok bravissimo spadoletta tagliata si che vuole dividerlo quando inizia a sentire cos'è sto rumore in un altro 30 secondi ti dà una girata tanto due mani si usano le mani in tasca non esistono inizia le parti quelle un po' più grandi abbassa quando è così abbassa un po' la fiamma a mano domani c'è e domani si usano ok basta che spezzetta gli stai a far macinato per macinato piano se non andiamo a pia di sotto come fa tempo abbiamo messo sull'acqua per la pasta dai controllo apposto esercizio come fa tempo guarda un po' se bolle in questo caso però siccome stiamo utilizzando la salsiccia che è già bella salata quindi metticene un po' di meno di sale e poi basta di più le uccelletti devi sempre proporzionare l'acqua che c'è dentro la mette c'è quello è un altro pizzicato hai visto quant'era la pasta da buttare i minuti di cottura va la vai buttare insieme ok bravo Teresa si è ricordato alexa imposta timer 10 minuti e quindi devi togliere il coperchio ok adesso prendi la cucchiara questa? si diciamo la cucchiara ok e dai una girata la pasta sennò ti si attacca tutta dai su su gira gira che non succede niente ma che aia dai se no si attacca tutta ma che scotta vedi però se sta bruciata e poi non la possiamo nemmeno più mangiare la cucchiara la cucchiara la cucchiara va bene è cotta quindi se può che spegne è pure la cucchiara dato che tu hai paura no mi fa male il fumo mi scotta si mi sono fatto male a questo tiro la scolo io però si la scolo io si la scolo io guarda voglio vedere vai vai ecco ecco guarda quanto è quotato che mi casca qualcosa dentro qua quanto si metto? eh metteciola tutta tanto tutta? si allora vai sta qua e non scende e butta dentro vai ecco ecco sempre tu mani gira dai ah porca toglia dammi dai una mano vai 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 ah che ha? mi dai la presina che scotta questa ma che presina scotta dai dai gira dopo si attacca tutto gira c'è c'è me r ma io c'è con il pepe stiamo mettendo il pepe a me a me no eh? no no a te no no quello è il tuo giallo il mio quello giallo eh ok stiamo impiazzando ok quindi il piatto è finito a me vedete sentiamo sentiamo com'è venuta buona? come se era più seca come già come se era più seca come già come 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 buona 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 buona